ciao come ci immaginiamo la scienza e gli scienziati ora a breve vedremo una piccola ricetta per piccoli scienziati seguiteci con attenzione e grazie salve anche da parte mia sono stefania lombardi e lavoro presso la biblioteca dell'area della ricerca del cnr di pisa il link che stiamo vedendo tutti quanti sopra impressione rimanda ai progetti di citizen science che la scienza con i cittadini con tutti noi perché care bambine e care bambini e care ragazze e cari ragazzi tutti noi possiamo contribuire a quel grande processo che è la scienza grazie a una piccola ricetta per piccoli scienziati come in ogni ricetta abbiamo bisogno di ingredienti care bambine e care bambine e care ragazze e cari ragazzi questa ricetta è per voi se abbiamo un'età compresa tra i 6 e i 12 anni come primo ingrediente ma questo vale per i più piccoli abbiamo bisogno di un adulto può sembrare strano ma un adulto ci servirà come ingrediente un secondo ingrediente è un cellulare che si collega a internet e il terzo ingrediente è un'app a scelta sappiamo tutti cos'è un'app app sta per applicazione ed è un programma che serve a svolgere un compito per il compito che dobbiamo svolgere noi care bambine e care bambine abbiamo stato gli ingredienti siamo già nel procedimento per il compito che dobbiamo svolgere noi ho scelto un'app che si chiama i naturalist che è una delle più conosciute a questo scopo entriamo dentro l'app i naturalist mi fa vedere delle foto che io ho fatto precedentemente e queste foto che siano di animali piante insetti io li posso direttamente mostrare alla comunità scientifica attraverso l'iconcina della macchina fotografica mi dice che cosa ho visto che cosa c'è nel mio giardino oppure posso andare su l'iconcina dei progetti e mi fa vedere tutti i progetti in essere a cui io posso contribuire grazie alle mie foto e quindi mi fa vedere che ci sono i progetti più conosciuti quelli in evidenza i progetti proprio vicino a me nei pressi che si trovano nelle mie vicinanze oppure i progetti a cui io sono iscritta facendo foto nel mio giardino ho trovato anche un progetto che si chiama il mio giardino sono mi sono iscritta lì e ora entriamo in questo progetto il mio giardino mi fa vedere che ci sono 470 osservazioni che sono le foto che tutti noi abbiamo fatto nel nostro giardino poi ci sono 171 specie identificate che sono le specie identificate dagli scienziati grazie alle nostre foto poi mi fa vedere quanti osservatori ci sono cioè noi che facciamo foto e quanti identificatori scienziati ci sono all'interno di questo progetto e in collaborazione tra noi che facciamo le foto e loro che identificano quindi abbiamo visto che con una semplice app e con la nostra voglia di fare foto possiamo collaborare a quel grande processo che la scienza ed essere anche noi dei piccoli scienziati in erba grazie mille a tutti quanti e eccoci dopo esserci divertiti e imparato tanto con la nostra ricetta per piccoli scienziati adesso è il momento di salutarci alla prossima ricetta e grazie